Oggi vi preparo un primo piatto originale, gli gnocchi di Grana Padano Dope Riserva con un ristretto di brodo di vitello. Gli ingredienti sono brodo di vitello, latticello, agar agar, kuzu e Grana Padano Dope Riserva. Prendiamo il Grana Padano e lo grattugiamo. Prendiamo una pentola, la mettiamo sul fuoco, aggiungiamo l'acqua, aggiungiamo il Grana Padano, mescoliamo e nel frattempo prepariamo diluito il gelatificante. In una bacinella mettiamo il kuzu, l'agar agar, con dell'acqua fredda diluiamo il tutto. Ora lo aggiungiamo in pentola e cuociamo a fuoco vivo. Una volta cotto a fuoco vivo per dieci minuti, lo togliamo e lo lasciamo raffreddare. Prendiamo il composto, una sacca di pasticcere, la riempiamo e creiamo i nostri gnocchi. Siamo pronti per impiattare. Prendiamo gli gnocchetti, li scolliamo dal latticello, li posizioniamo nel piatto, li rorriamo col brodo di vitello molto caldo. Gli gnocchetti di Grana Padano DOP, riserva e ristretto di vitello sono pronti.